I bagni? I bagni? Se vai avanti a sinistra te li trovi sulla sinistra. Eh sì. E' un metro, non ce la scuola. E' un metro, non ce la scuola. Poi... Si lo serve più, ca? Forza Napoli. E' un po' del 2. Vabbè, lascio ancora i 2. E' un po' ci fai. Faccia l'arma. E' un po' di più. E' un po' di più. No, domande se hai, vinci un quarto in Lisbona. Perché loro la ricevono tramite me, addirittura. Da Winch tramite me. Sabato addirittura ha avuto Torino-Roma. Ma non lo so, ma... Se lo facevo... Si, si, si. Perché avevano sempre dato di sì, per i tre sperdi. Sono pochi lenti. E però rifiutano. Perché Polone non ci va domani. Ma anche cosa? Anche Ettore aveva rifiutato a Pasqua il Lecco. Maggione in ultima capposta. Non lo so. Ah, ma bravena. Sono le ripicche, Mico. Non lo so. Io non lo so. Non mi dobbiamo mettere la domenica. Non lo so.